Ciao a tutti ragazzi e ragazze! Come state? Oggi sono qui solo per voi, per il trigger e giorno numero 17 del calendario dell'avvento ASMR. E oggi ho scelto un trigger molto particolare che non ho mai portato qui sul canale, ma che spero vi piaccia. Quindi io direi indossate un paio di cuffie auricolari, stendetevi sul vostro letto e chiudete gli occhi, va bene? Intanto io oggi ho scelto quattro cioccolatini, due sono Raffaello e due non lo so. E secondo me il suono della carta che hanno della confezione è molto 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 bello. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Dovete sapere che i Raffaello sono i miei cioccolatini preferiti. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. a presto a presto a presto a presto a presto per andare sul mio canale a vedere qualunque video che vogliate va bene quindi buonanotte buonanotte un bacio e noi ci vediamo domani buonanotte 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 buonanotte